. Usando un frevo scherzo flat, remove the cover of the control panel. It has hooks in the back. Qui puoi vedere le foglie. Remove the two screws on the back. Different Canon models could have slightly different instructions, but the procedure is the same. Remove the back cover. Remove the right side panel. There are rocks. It could be difficult. It could happen you bracket clip, if not the end of the world. Canon did everything possible to prevent the disassembly of the printer. They don't want you to repair it. Better if you buy another one. Remove the side panel. Remove the screws off the control panel. Remove the screws off the control panel. Remove the flat cable. Remove the flat cable. Remove the control panel. To clean and check the inside of the control panel, remove the screws and remove the electronic board. remove the other side panel. Remove the screws off the scanner. Remove the screws off the scanner. remove the other side panel. Under the cable there is another screw. Aggiungere il pannello a destra e uscire l'unità di scannere da i suoi tappi. Se necessitati di aprire l'unità di scannere, uscire l'unità di scannere. Ora puoi aprire l'unità di scannere. Usci il pannello a destra e uscire l'unità di scannere. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e ascire il pannello a destra e uscire le tappi. Uscire le tappi. Uscire il pannello a destra e uscire le tappi. Un pinito calde e mediano a destra e la titela. Un'acquesta. 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 Il due ottobre. Un pezzo diugale a destra. Io suggerisco a voi di stoppare la disassemblazione del impianto. Se è la prima volta che aprivi il impianto, potrebbe essere difficile di riassemblare corretamente la riassemblazione di paper roller o l'encouragge. Se lo necessitano, puoi pulire le potezioni per usare un vestito o un rinforzamento. Reinstall il top cover. Inserita la parte plastica sul lato. Reinstallate le potezioni del top cover. Reinstallate il potezioni principale con le potezioni e i connettori. Inserita il pannello lato. Reinstallate la unità di scanner. Reinstallate le potezioni. Reinstallate le potezioni. Reinstallate le potezioni. Reinstallate il primo pannello lato. Questi sono i potezioni in loro posizioni corrette. Poi pulire il pannello controllo. Inserita il potezioni. Inserita il potezioni. Reinstallate le potezioni del pannello controllo. Reinstallate il 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 pannello controllo. 調ate il pannello controllo. Ec院. Grazie per la visione!